Bene, salve e buonasera a tutti. Dopo le prime due giornate al di sopra la parità, i listini europei chiudono la terza sessione in territorio negativo. Mancano un'ora circa dal meeting della Banca Centrale Americana, della Federal Reserve, ma andiamo a vedere come hanno chiuso i listini europei. DAX chiude a meno 1,57%, IBEX a meno 0,91%, CAC di Parigi a meno 0,80%, Fuzzi Londra a meno 0,45% e Fuzzi Mib che chiude a meno 0,47%, con Piazza Affari che è rifiata come gli altri principali indici europei, così come Wall Street, ieri avevano raggiunto i massimi livelli dell'anno. Gli investitori europei oggi hanno guardato gli alert lanciati da alcune big, uguali BMW e UBS e quindi la situazione è, tipo per esempio come Piazza Affari, dopo aver quindi iniziato la sessione con un'ottima perfua, un buon andamento poi ha dovuto cedere con un calo appunto dello 0,47%, portandosi a quota 21.330 punti dopo che ieri aveva chiuso sui nuovi massimi a 5 mesi e mezzo. Ottimo rally per quanto riguarda poste italiane a più 0,96%. Andiamo a vedere invece che cosa ci ha offerto il calendario macroeconomico di oggi. I prezzi alla produzione della Germania hanno segnato a febbraio un aumento dello 0,20% rispetto al mese precedente e dal 2,9% su base annua. Gli analisti si aspettavano un calo dello 0,1% su base mensile e un aumento del 2,6% su base annua. Nel mese di febbraio invece i prezzi alla produzione del Regno Unito hanno fatto segnare un incremento mensile dello 0,1%. Il dato è in linea con le stime dei di analisti. Nella precedente rilevazione aveva fatto segnare una variazione anno. Su base annua i prezzi alla produzione invece hanno registrato un incremento del 2,2%. Anche in questo caso l'andamento dell'indice era stato correttamente pronosticato dagli analisti. A gennaio invece il dato tendenziale aveva messo a segno un più 2,1%. Sempre nel Regno Unito invece l'inflazione dopo che era sceso dello 0,8% del mese scorso oggi ha messo a segno un più 0,5%. dato uguale alle attese. Viaggia invece oltre 60$ al barile il VTI dopo che lei ha previsto che le scorte di petrolio negli ultimi sette giorni al 15 marzo 2019 sono scesi di 9,6 milioni a 493.439,5 milioni di barili contro i 449,1 milioni di barili della scorsa settimana. Il consenso si prevedeva un aumento di 0,309 milioni di barili. Ma ritorniamo al caso della Brexit. La May, Teresa May ha annunciato che chiederà legalmente all'Unione Europea un rinvidio della Brexit della scadenza del 29 marzo. Bisogna portare a termine la Brexit come ci ha chiesto il popolo britannico e quindi visto che il mio accordo è stato bocciato la settimana scorsa chiederò al Presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, una proroga fino al 30 giugno per far approvare il piano dalla Camera dei Comuni e completare tutto il passaggio della legislazione necessaria in tempo. Ha detto quindi queste sono proprio le parole dell'ultima conferenza stampa in Parlamento. Mentre un alto funzionario britannico, questa è una fonte che rivela Bloomberg, messo in guardia dal dare per scontato che l'Unione Europea acconsenta facilmente ad un rinvio. Anzi, secondo un documento della Commissione Europea, visto appunto da l'agenzia di stampa Reuters, l'Europa non vorrebbe concedere un'estensione fino al 30 giugno perché legalmente è politicamente complicata. I sostenitori della Brexit minacciano di dimettersi se l'estensione è così lunga. Il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker stamattina ha già fatto sapere che servirà un altro summit straordinario la prossima settimana. Bene, quindi è ancora una situazione molto complessa e molto difficile da poter tenere sotto controllo. Bene, adesso continuiamo con le slide e andiamo a vedere anche che cosa ci sarà domani, quale sarà domani il calendario macroeconomico con le news più importanti. Bene, si parte praticamente dalle 2.30, dall'Australia abbiamo le variazioni del livello di occupazione di febbraio e il tasso di disoccupazione. Poi alle 9.30 decisioni sui tassi di interesse della Banca Centrale Svizzera, quindi più la conferenza stampa, quindi alle 10.00. Poi abbiamo alle ore 10.30, le venite al dettaglio di febbraio, alle 13.00 la decisione sui tassi di interesse della Banca Centrale Inglese. Mentre, quindi facciamo attenzione per quanto riguarda la sterlinia, quindi è molto interessante seguire però soprattutto anche la conferenza stampa di Mark Carney che ci sarà dopo mezz'ora, tre quarti d'ora dopo la BOE. Poi alle 13.30 abbiamo le richieste iniziali di sussidio alla disoccupazione e l'indice di produzione della Fed di Filadelfia, sempre dagli Stati Uniti. Beh, adesso andiamo a vedere un po' quello che cosa è successo oggi. Oggi abbiamo un euro-dollaro che si mantiene ancora in stand-by, in attesa appunto delle prossime news in arrivo stasera con la Fed della Reserva. Ma molto interessante, la seduta chiude con un, abbiamo chiuso Euro Sterlina, eccola qua, due operazioni, avevamo un secondo target qua, ma è rimbalzato su 0.86.201, quindi praticamente l'ho chiuso, il secondo target l'ho chiuso al mercato. Primo target preso a 0.86.15, quindi più 45 punti, poi secondo target chiuso a 38 punti. Totale 83 punti. Poi, sterlina-dollaro australiano, dopo aver raggiunto i 150 punti di target momentane, poi ho chiuso l'operazione perché stava salendo, adesso invece è ritornata a scendere. Ma le due operazioni quindi le ho chiuso al mercato a 75 punti cada uno, quindi 150 punti. Mentre invece andiamo a vedere che cosa, per quanto riguarda invece la situazione, altre operazioni che ho chiuso, i DAX, DAX due operazioni, quindi un'operazione, ovvero una operazione con due target. Il primo target 75 punti a 11.635 preso in pieno, mentre invece per quanto riguarda la seconda operazione l'ho chiusa al mercato, ma poi dopo è continuato la sua discesa. Adesso sono rientrato nuovamente sell al mercato in virtù di questo pattern armonico in ottica giornaliera, quindi un'operazione long term, il che potrebbe spingere il prezzo molto, questa è una bullish, una bearish max butterfly, questa situazione potrebbe essere molto interessante. Sono andato ad inserire un target di 280 punti, un altro sui 500 punti sul PV mensile e un altro prima del supporto a 11.057.20. La view al momento rimane ribassista per quanto riguarda il DAX, vedete già stamattina abbiamo assistito, oggi abbiamo assistito anche sul 4 ore, si vede questo ottimo movimento e al momento il prezzo si sta portando sotto al PV settimanale. Mentre invece per quanto riguarda altre operazioni, il DAX, anche qua siamo entrati al mercato e anche qua ho chiuso subito perché dopo c'è stato un movimento al rialzo, poi il prezzo è crollato vertiginosamente, ma abbiamo chiuso l'operazione a 60 punti dopo che poi il prezzo poi dopo è sceso per altri, in questo momento sta oltre più 130 punti rispetto alla chiusura. Per quanto riguarda le altre operazioni, continua a muoversi la long term su gold sell, eccolo qua, bel test a 1305, 577, in questo momento ho posizionato stamattina in altra posizione di vendita e stiamo praticamente intorno alla parità dopo che fino a un'oretta fa abbiamo raggiunto quasi i 50 punti su questa operazione. Però diciamo che mantiene questo 1305, 577. Bene, per stasera è tutto, ci aggiorniamo quindi domani mattina, domani qua giovedì, quindi quarto appuntamento mattutino alle ore 8.30 con la diretta live. Bene, buona serata a tutti e vi aspetto domani mattina. Arrivederci a tutti e buonasera.